La frequenza del 200 è il primo programma di intervita in Italia, è un programma di contrasto della dispersione scolastica dove oggi il tasso di dispersione scolastica in Italia è del 18%, quindi vuole dire che quasi 20 ragazzi su 100 non portano a termine quello che è un percorso formativo, educativo di base necessario. L'abbandono scolastico è un percorso formativo, è un percorso formativo di base necessario in Italia colpisce tutto il territorio nazionale, a macchia dell'opardo, quindi nord, centro, sud, indistintamente. L'unico elemento comune a questo è che è la punta di un iceberg dove sotto c'è spesso questioni di disagio sociale, disagio economico, famiglie con grandi precarietà, non solo economiche, ma anche spesso proprio di tradizioni che si travandano, di genitori che non hanno terminato un percorso e che quindi in qualche modo investono poco sui loro figli. Mi chiamo Aurora. Io mi chiamo Salvatore. Alessio. Mi chiamo Trisha. Io mi chiamo Cristian. Io mi chiamo Vincenzo. Io mi chiamo Enza. Ho 14 anni. Ho 8 anni. Ho 15 anni. Ho 14 anni. In famiglia siamo 6. Siamo 5 persone nella mia famiglia. Siamo 4. In famiglia siamo 5. In famiglia siamo 6. In famiglia siamo 6. La mia mamma ha 28 anni. La madre ha 36 anni. La mia mamma è stata 34 anni. Mi madre ha 36 anni. La mia mamma è stata casalinga. La mia mamma ha Mi lavora come barato. Mi madre lavora a ricerca di salina. L'anno scorso a scuola andavo così così. Andavo l'anno scorso, andavo così così. Io sono stato bocciato due volte. Io non sono stato mai bocciato. No, no, non sono stata mai bocciata. Io sono stato promosso. Io sono stato promosso quest'anno. Sì, quest'anno sono stata promossa. Nel Seguenza di 200 mi hanno imparato molte cose, mi hanno aiutato a studiare. Ho fatto teatro. Faccio dopo scuola, mi diverto e faccio molti laboratori. Adesso è più teatro. Nel Seguenza facciamo attività sportiva e altre attività. Che Che ... Grazie a tutti.